Il dolore calcaneale o tallodinia o calcagnodinia non è altro che appunto un dolore, una sintomatologia acuta o cronica che si localizza a livello del calcagno. Svariate possono essere le situazioni che comportano una situazione di questo tipo, situazione che è molto frequente e che può colpire ambedue i sessi, prevalentemente persone magari in sovrappeso e anche le decade di età ormai sono indifferenti, soprattutto perché anche il giovane, il soggetto in età pediatrica o in età adolescenziale, svolgendo dell'attività fisica sportiva significativa, può andare incontro a questa patologia. Ad escludere la componente traumatica, cioè il trauma che viene esplicato sull'osso calcaneale, altre possono essere le situazioni, principalmente la fascite plantare inserzionale, cioè quella formazione anatomica che si inserisce sul calcagno che porta ad un dolore, a una limitazione funzionale veramente invalidante. È una patologia assai frequente a tal punto che nell'attività ambulatoriale almeno un quinto delle visite ambulatoriali che vengono svolte quotidianamente hanno per tema appunto il dolore calcaneale. Quali possono essere le cause, oltre a quella traumatica, anche a quella della fascite plantare? Possono anche essere delle neoformazioni che si sviluppano all'interno del calcagno, possono anche essere legate a delle situazioni di edema osseo a livello calcaneale, oppure ancora degli stati infiammatori infettivi, ma questi hanno sicuramente una frequenza minore rispetto alle due cause principali che abbiamo enumerato prima. Abbiamo detto che l'età è indifferente, abbiamo detto che anche il sesso è indifferente, c'è una certa predilezione per i soggetti che possono avere un sovrappeso, questo legato appunto al fatto che viene esplicato sull'osso calcaneale un sovraccarico funzionale che di solito non c'è. Un'ultima causa potrebbe anche essere, non secondaria, quella di un malallineamento del calcagno sull'asse della gamba. Grazie. 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 Grazie.